un motonave cos'è questa onda? è una tristola è un promontorio è una pista di lancio per gli ufo è una tristola non è un po' è un po' Sveglia roba Ciao! Il Jimmy non lo troviamo più Eccolo, eccolo Guarda che bello, guarda che bello E' apparso l'uomo Fai lì Ma l'ho già fatto Ti sei già fatto? Certo Mi scherzi quando sono io sulla commissione Sono dei parenti da una parte C'è un scherzo C'è un scherzo Si capisce che c'è un movimento C'è un movimento Ma questo è un movimento Ma questo è un movimento Uniquilista Qua è la prima volta Ma questo è un movimento E' un movimento Ma questo è un movimento Si Si Si